Ciao a tutti ragazzi, sono Den e benvenuti in questo nuovo video, oggi siamo qui con... A me, ciao a tutti A me, ciao a tutti Allora, stiamo facendo un video strano Perché praticamente dato che il server è KO stasera, non riusciamo a giocare Sto stando io la partita e... Voi lagate? No Ho un pedino all'inismo Adesso no E abbiamo deciso di fare un gioco Siamo sulla ransomware canal E giochiamo a nascondino Allora, la regola principale è una Daniele si sta nascondendo col JCB Io sono fullman perché lo preferisco E Simo è col altro JCB La regola principale è dare, vabbè Non aprire il PDA per cui io non lo aprirò come vedrete dal video Dobbiamo cercare di trovarlo e di ribaltarlo in modo che... Cioè non di ribaltarlo in un colpo ma comunque... Di tenerlo lì 5 secondi, qualcosa così Dobbiamo partire ai 35 per cui abbiamo ancora un minutino da aspettare E poi Simo si parte a manetta Allora, io ricordo il discorso dell'impronte ragazzi Sì, non a voi ma anche a Simo Eh, eh Ti sei ribaltato? Mi sono incastrato Ma no, già... Dove? La Appunto A fare il tuo, andiamo Simo Dove fare i miei? Vabbè dai, ripristina Ti ripristino io Dai Simo, io sono qua Allora Io tenendo... Dove sei qua? Dai, non di più In qualche sennò poi il video viene noioso Ok Ovviamente la mappettina piccola possiamo tenerla Non altro, non possiamo aprire le pittina grande Nooo Eh, c'è un clacsonone Oh Dai, un minuto, abbiamo Simo Non sta però, eh Ma dovete poi scappare mai che non mi piccate mai Sì Eh, manca ancora un minuto Parti di te No, è parti di te Eh Eh Ahah Ahah, io non l'ho fondato Ahah Ancora Ciao, fai Eh, dove sto andando Sì, ciao, buonanotte Allora, Simo, io faccio... Allora, eh Cercando di tenermi di qua Cercherò di andare di qua Perché penso che lui sia andato di qua Allora, queste sono impronte nostre Vediamo le sue dove si dirigono In qua Sì, ragazzi Come potete capire lui è andato di qua Poi ha proseguito da questa parte Nella rotonda Ah, io che già ci sono due Allora, io provo ad andare di qua Ah, ragazzi, neanche Daniele Può aprire il PDA Per vedere No, ma io sono corretto Sì, sì, no Dico Che... Giusto per mettere in chiaro le regole Per farle sapere Ecco Allora, ragazzi Finché Non troviamo di impronte che tagliano in mezzo ai campi Noi siamo a posto Perfetti Perché vuol dire che è sulla strada E io facendo 10 km orari in più di lui Molto, molto Magari ci vuole molto tempo Però io lo riuscirò a trovare Ecco, qui c'è già un piccolo problema Perché non si sa se può aver tagliato No, non Hai trovato? Hai trovato? Dove, Simo? Dove? Il campo? Pasendo Ah, non è la mia del lucello che canta Ah, no Non è la mia del lucello che canta Ah, no E vuol dire che devo mettere la linea nella tua Sì, sì Tanto se ti trovo, te ne valto Oh Ah, no, non sono segni di impronte Volevo provare Allora, mi stava venendo di abitudine Dalla serie aprire il PDA Per fortuna non l'ho fatto Secondo me è in fine dintorni O almeno potrebbe esserci Perché qua non si vedono le tracce Per cui Dove verrebbe anche a essere Sì, è qua, è qua, sicuramente Si sei andato a nascondere qui Non si aprono le sbarre Ok ragazzi, vediamo No, hanno collision statica Non può essere qua dentro Se mica dentro al porto, non è Entro? Al porto No, no Nel caso viene lunga ragazzi Tagliamo Taglierò poi le parti noiose Adesso non so Il video viene di quello che vi è Non so guardare Sì, ma che casino qui Se fosse avesse tagliato di qua Eh, questo è il bruto Ci sono tante strade Eh È difficile Però Non tanto Perché comunque Le impronte appena tagli fuori Si vedono A meno che non ti butti giù Proprio in un tipo qua Che ci sono sterbe qua È difficile da vedere Ma comunque Quale è il bosco? Ecco il bosco Il bosco ragazzi È un buon posto Qua avevo messo l'alberi Idropolitrici La fate perdere È un buon posto Dove far perdere le tracce Perché davvero Si perdono in un attimo Vederle nel bosco Eh Anche sulle patate Eh Qua viene il bello ragazzi Io me la gioco Ops Vediamo di non lasciare impronte Neanche noi Perché Uno potremmo confonderci Due potremmo Cioè Tra me e Sino E due A me viene da girare Di qua E due Perché poi Se Daniele le vede No però Di qua non c'è Passato Volendo noi ragazzi Potremmo anche tagliare Per campi Ma Eh Lo trovo poco sensato Attraversare i campi Se poi guarda Durante l'editing del video Mi accorgo Che nel PDA In basso Che non ho ancora guardato Oltretutto Appare un segnalino rosso Per fare un affondino Per capire Il mio voluto ragazzi E' che adesso Non durano molto Queste impronte Oh ma sono già sparite Guarda che bello Sono già Sono già sparite No Ragazzi Questo è un buon motivo Per iniziare a tagliare Per campi L'ho visto Qualcosa di luminoso Ma non penso Sia lui Oh Ecco Guardate Secondo tutto il posto Che c'era Devo prendermi l'albero Poi la panchina Magari Ok Questa mappa Oramai la conosco Come le mie tasche Per cui Anche Anche gli altri due C'è anche Sima e Daniele Penso Suppongo E Per cui Non dovrebbero esserci problemi Per noi Ma ci sono problemi Perché lui La conosce Per cui sa anche Dove Un potenziale Pusto Da andarsi a nascondere O conoscere Eventuali posti Intanto Noi qui Ma lo shop è lì Ma da quando Ma ci sono Ah quello degli alberi Sì Ah qui ce ne sono i muri Invisibili Qui No Secondo me Io andrei su di qua Perché Nella gioco Che ha fatto Qualche giro strambo È arrivato su di qua Adesso Sto guardando Più assiduamente Il Il PDA Beh Fai prima a tagliare Mezz'ora il video Che tanto Ma non mi troverete male Davvero Vabbè Ma Sei vicino a un confine Eh Così Per termini Troppo Ah Non è che mi gira i confini Per sapere Se poi Se passo vicino Se sei sulle montagne O se Ti dovrei vedere Dal PDA Sai che se stai vicino Non si vede Allora Oh mio dio Considerando Che sono vicino Ti dico solo questo Che sono vicino Dei luoghi Dove riesco a scappare E chissà dove Io comunque Bella che rischiato Per fare prima Per fare prima Non è che ci diresti In che zona Della mappa Sei Perché se no Bene Due ore di video Cioè Dividere in quattro parti Ah Dove Simo dove 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 Ah si Ah Devo trovare Dimmi il campo Simo Mi è passato da partite Simo dimmi il campo Eh Stimo Dividendo Il campo 26 Dai Allora il campo 26 Qual è Boh Sperlo So dove Ah si E' quello con la curva strana Ok l'ho capito Siete sempre lì vicino Più o meno Fa Un culo Palla duco L'hai perso no No Va bene bene Dai che stai arrivando a canella Ho scelto il man Beh non il pick up Perché primo Il pick up drifta Si può perdere tempo Eh 32 32 Oddio il 32 sai che non lo so bene Dove Dove Vuoi maggio Invece se mia farm È vero il 32 è quello lì Grazie Daniele Come fai a sapere Cioè perché me l'hai detto Perché come fai a sapere Perché ti viene fuori una pappardella di video E nessuno se lo guarda Eh beh ma potrebbe essere una cosa divertente Può essere Può essere Ecco Allora tanto Non dovrebbero essere tanto di video Siamo 13 minuti Zoomiamo un po' la visuale Visuale E Usare la player camera No no Ho zoomato al massimo la visuale È legale No Campo Simo Campo Simo Simo Al 37 E Campo qua Oh vi vedo Vi vedo Vi vedo Guardate lì là in alto ragazzi Un cosino giallo Un giallino Giallino Comunque Comunque non so Adesso Parlo anche con voi Eh Cioè con voi Daniele e Simo Non so se ci fate caso Che qui è molto più scuro della serie Non so se ci avete fatto caso Tipo La luce C'è molta meno luce Se inseguo Simo mi sparo Simo ti sono mica dietro Sì Sono io Sì Ma dai E Daniele dov'è Io Se lo batte 4 ore Mi sono perso No Vabbè comunque è l'area dei light Che fa vedere più chiaro Qui non c'è Si vede più scuro Ecco Si ritorna alla ricerca delle impronte Cosa è a fare Per Roma Altri mini suggerimenti No Vabbè ragazzi Ci risentiamo Quando abbiamo update Di In questo momento Sembro E Sembro cosa Diciamo Un gocchio dal cielo Vabbè ragazzi Ci risentiamo appena Lo Lo scorgo Altro che lo scorgo Scorgo l'impronta No Nel bosco Vedete che nel bosco Guardate come si camufano Nel bosco Ho visto qualcuno però Meglio Meglio stare usciti All'uomo Vanno di là Un cosino giallo Qua dove vanno Un casino Di là Daniele Le tue ore sono contate Simo Vieni sul bordo alto Della mapa Proprio in cima In cima Sul confine Ma Mi la faccio Quattro cam Ecco No Vabbè dai Ci provo io Andiamo a arrangiarmi Stato Porta Puttana E va Ecco Muore Same Ora qualcuno Si capota Me lo sento E quella Sono io E anch'io Mi sono Dai Cammina Cariola Di un camion Ah beh tanto Di le tue ultime preghiere No Il ponte E guardate qua Ragazzi Allora Daniele ha risaputo Per la sua Longevit Mamma mia Longevità Nel Nel Riuscire a resistere Senza farsi prendere Dall'entusiasmo Cioè Da me Da simo In questo caso Guardate che drift Che gli faccio fare Eh non vale Lui c'è lo stesso Più veloce No Eh Ciao Buonanotte Buonanotte A me Tanto scenderai Dall'altra parte No Oh Uh La birce birce No No Daniele mi dai un colpo Perché devo Che c'era il mio nemico Mangiarmi Scusa Davoci una mossa Su Dai cammina Cariola Vedi Scusa E' nato Eh simo sei ancora piantato Eh simo sei ancora piantato Eh io eh Io ecco Dov'è che sei più o meno Dov'è che sei? Dov'è che sei? Ah no potresti essere in quello la bosco Ah no potresti essere in quel bosco Ragazzi sono in quel bosco Tutti Eccoli Eccoli Secondo me quello davanti è Daniele Chissà perché Eccolo Simo attacca la lampeggiante Almeno si riconosco Guarda lì dove vanno Sti due Più che altro quello là Oh cazzo Oh cazzo Oh cazzo Oh cazzo Dai 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 Eeeh Eeeh No che mi capo No S Ciao No Aspetta la vista Eh Aspettami Se cammina Mi prende il tre Sto cosa A me Ho Hojm Ho lamentato il joystick Di sudore Sono Sono teso Hai vista la capriole Simo dai che è tardi che devo andare a dormire io ho spalpinato il cimo eh ho visto adesso prova a spalpinare me vorrei vedere proprio come fai ma vaffanbrodo eh ma tanto adesso non ha scampo ragazzi eh non dura poi tanto ma simo cosa combini eh vabbè poi lo dico a te faccio io anche Daniele tra tutti gli alberi sono maledetti li tiro giù basi tu li faccio basi tu eh guardate quei salti vai prendiamoli la scia ed ecco più che quando mi hai chiesto del porto sotto di te quando ti ho chiesto il porto se ero passato di là ero sotto di te eri sotto all'acqua eri in acqua sì ma è bello che l'ho anche ci ho anche guardato un attimo in acqua come per dire sta a vedere che è qua wow dove sono? me li sono persi cosa c'è qua davanti non è Daniele ma una recinzione più o meno sei tu guardi no scherzo no si ma c'è l'acqua ma c'è l'acqua ma c'è il trattore io con il camion non posso salto eh si eh 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 no ahahah si ma aiuto drizzami me prima grazie ridetti eh eh dai dai eh mi sa che ragazzi avete cioè starete sentendo queste voci molto velocizzate perchè mi sa che metterò tipo la musica delle comiche sotto e velocizzerò il video ma io non ti vedevo e non mi vedevi che ti ero dietro no non ti avevo visto senti via quel cazzo ma mica bene così alberi amici miei spostatevi con loro io sono buono in questa storia urva albero anche io dai che sei cap dai è è piantato e vi vedo a capo tempo così ora se ripristino io ripristino anche tu per cui simon mi sa che abbiamo fatto un'emerita che gatta non è che mi si dà la rezzola mano simon colpetti tutti senza rimanere piantato facciamo un ripristino di massa no aspetta no aspetta sono già 22 minuti e 34 di video dai ripristino di massa su scendete tutti aspetta aspetta come non è che mi piace Sì, ma noi siamo l'ostore, eh? Olè! No, le anatre! Sì, sì! Sei bloccato! Sì, ho preso quelle straccate le anatre! Eh no, anch'io! No, no! Grazie! Anatre, non siete mai un'amma unica, mia amica. Cosa c'è qui che vola? Fatti un attimo davvero, cos'è sta roba bianca? La vedi anche tu volare? Non vedo qualcuno che scappa, scappa gambe levati, con una bella presta. Eh, ciao! Ti sono dietro, ti leggo anche il nome. Non è vero. Come fa a non leggerlo più? Vabbè, ora le leggo di nuovo. Sì, ma siamo alla foresta che avevamo fatto basso nella serie. Uh! Dal 30. Non devo perderlo dal PDA, sennò sono fai gatto. No, ci sono le impronte, volendo. Uh, seguiamo le impronte. Non però gli alberi! Sì! Allora... Eh, guarda che fortuna. Gli alberi sono buoni oggi con me. Eh! Per fortuna uno mi ha fermato, però. Andavo fino a... in Francia. Cosa devo fare? No! Dai, sì! Sì! Vieni giù che siamo sempre in questa foresta! Che io lo perdo! Se lo perdo mi arrabbio! A un'ora che ci siamo alle costole! Non abbiamo ancora risolto niente! Lui guarda che salti che sto facendo! Dai 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 dai! Mi ha fatto passire il penta! Sì! Vediamo di non chiudere troppo, sennò rallentiamo! Ok! Ecco! Non facciamo come ha fatto lui! Eh no! Però ora devo chiudere, sennò mi prendo la pietra! È da beccarlo, proprio mentre fa una di queste cose! Aspetta, io non sto venendo niente, mi sto grattando la testa! Ecco! E con un uomo non mi grattavo la testa! Con l'altro continuavo a girarla visualmente in tondo! Ok! Si può dire che siamo... Eh! Dai! No! C'eri contro alla... Ora, d'ora in poi ti sto dietro, almeno se ti pianti contro un albero ci sono io tenerti spinto e arriva Simo con la palla gommata! Simo ma dove sei? Sta arrivando! Sì! L'aiutatore è che dovresti metterci cinque secondi... Traversare la mappa! Sì, chi era... Io mi preoccuparò quando vedrò la seconda ferpenta! Sì! Sì! Ma cazzo! Simo! Simo! Vieni giù la foresta! Di corsa! Sparato! Proprio bomba! Eccolo! No! Non va a scendere! Sì! Stato! Capodanno! No! Dove vado? Guarda qui! Ah, io ne prendo uno per sorte! Ecco, ho preso quello sbagliato! Dai! Che Dio ce la mandi buona! Sì! Ma sì! Ma a me! Ah, lui no però! Eh! Un moresame ho visto! Eh! Cancaro di camion! Cancaro di camion! Vai! Simo! A bomba! Eh! A bombazza! Ma guarda! Ma guarda! Sto imbato! Vai! 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 Che io lo scanto! Eh! Ma dai! Ma lasciali un po' petare! Siamo tutte e due sterzati nello stesso punto! Dai! Perché non lo ribalta? E perché sto cosa ci mette uno a girare? Eh! L'avrei già centrato! Uh! Giusto che ce la rialterrai anche! Eh! Grazie! Solo centro così lo cappotto! Devo riuscire a centrarlo! Eh! No! No! C'era il cimitero di idro pulito! Chi è che ha messo le piante dentro l'acqua? Ancora un'altra volta io! Eh! 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 Tutte e due qua! Vai! Via! C'è anche una... No! Lo caressimo già è vero! C'è una serra! Eh! C'è una serra! Eh! E' un po' troppo cresciuto! Eh! 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 come a me avete perso ancora le speranze vabbè ragazzi io direi che per questa puntata è tutto noi ci arrendiamo perchè io devo andare a dormire no non ci arrendiamo la continueremo e poi vi farò sapere in descrizione o in un ultimo clip in un ultimo clip che metterò in questo video chi ha vinto ovviamente noi perchè lui non può vincere perchè dobbiamo vincere per forza noi ho la potenza dei sam e mia fedele grazie simo allora simo io tu cerca di di tenerlo sulla buona strada e di non metterti tra me e lui buona strada e occhio vivo sempre si no non mi dovevi centrare così questo non me lo dovevi fare ma cosa vuoi anche in mano con me vabbè lo so uh c'è la scania no ma a parte che è andato dritto ancora peggio magari adesso simo ma c'è bastardo ma dai ma perché adesso hai imparato su tu uno di qua uno di là ma abbiamo finito di girare intorno in quel campo qua almeno non cresce più l'arma persino guarda come è diventato basso il maiz eh cambiamo canto è diventato bassissimo il maiz il maize bloccato che turco eh guarda se ribaltavo simo non so cosa succedeva ma l'apocalisse invece di te ribaltavo simo allora io blocco tu vuoi prendere una paragommata la polvo la polvo la polvo la che tommai dato il link prima e che vola ecco lo sfondiamo no 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 non metti la metti da fuori dai ma perché ma cosa non ho fatto a posta dove a parte siamo tutti qua cosa ho la calamita per gli alberi io confoso è cucù cos'è il cuculo strada grazie qui c'è una vasca non si chiude guarda un po' come è lento a sterzare gira 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 dai che ci prendo la scia adesso sai perché mi aspettavo una finta che poi giravi dall'altra parte invece non le favo una volta che mi tengo pronto alle finte non me le fai adesso uno da una parte uno dall'altra almeno lo becchiamo di sì dai dai dobbiamo prenderlo vai prendo un po' della tua scia oh no beh 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 ecco dai 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 che gli prendo la sua scia la sua scia la no non ribaltarmi il simo guarda che casino vai simo io ce l'ho vai a prendere una palla gommata eh allora va su io ce l'ho schiacciato il tre la la d la non so ventesimo domenica da tre volte spero vediamo anche cos'è che è successo ma non mi non ti fare domande andiamo con la chat aperta che è più bello oh oh no si c'è Daniele non si dovevi addrizzare vabbè prendiamola come una sconfitta dai albupo albupo dai no quello si facciamo una notte allora chi è che mi stico no dai quello di prenderlo mi ha sconfitto perchè mi avete ribaltato sconfitta per chi poi l'avete ribaltato sconfitta per chi eh poi l'avete ribaltato voi ah va bene ragazzi eh diciamo che si è conclusa a tavolino anche se si è conclusa abbastanza perchè sennò rimanevamo qua giù si dopo 34 minuti e 59 di puntata ci possiamo adesso andare a fare un gioco compito basta che adesso non serve più se adesso guarda se adesso ti ribalto vai io vi ringrazio tantissimo per la visione da Dan buonasciame 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 ciao a tutti ciao uno ciao a tutti ciao a tutti